Qual è il dato più importante di questa consultazione? Il dato più importante, direi, i dati più importanti sono tre. Il primo, che la disfatta repubblicana non c'è stata. C'è stato un bilanciamento tra Camera dei rappresentanti, sarebbe la nostra Camera dei deputati, e Senato, per cui i repubblicani si sono rafforzati al Senato, dove già avevano la maggioranza, e hanno perso la Camera bassa, cioè il Congresso. Il secondo dato politico importante è che i democratici non hanno potuto esprimere una leadership vincente, perché le stelle emergenti, gli astri emergenti democratici, sono stati sconfitti tutti. Il caso del Texas è un caso emblematico, si pensava che quello fosse davvero un possibile astro emergente per le prossime elezioni del 2020. L'Obama bianco l'avevano soprannominato. Esattamente. Il terzo elemento è che, secondo la mia valutazione, i democratici oggi hanno un interesse a una opposizione che non sia ostruzionistica e di boicottaggio. che non sia ostruzionistica e di boicottaggio che non sia ostruzionistica e di boicottaggio.